Ultimamente un nostro dipendente di Autolinea Toscana ha avuto un'aggressione fisica ricevendo una testata in volto da una persona che chiedeva di prendere il bus anche senza biglietto e comunque già che il bus era ripartito ha bloccato il servizio ha dato una testata in faccia al nostro conducente e non solo, non contento, i giorni seguenti è venuto a cercarlo nei nostri posti di lavoro per nuove rappresaglie Questa è l'ultima aggressione in ordine di tempo denunciata dai sindacati dei trasporti pubblici nell'Aretino Un altro episodio era accaduto in primavera, una donna controllore aggredita nel treno regionale che da Firenze arriva ad Arezzo Le aggressioni fisiche sono indubbiamente gli episodi più gravi ma non si tratta solo di questo Si va dalla violenza verbale all'abbandono di siringhe fino al danneggiamento dei mezzi Ma allora dai rimproveri dalla gente in Corriera perché se passi 30 secondi prima, se passi in ritardo poi la gente si accanisce perché la prima figura che trova dell'azienda è l'autista C'è stato i cambi delle linee, l'anno scorso abbiamo avuto delle situazioni che la gente non le capiva toccava spiegare e nonostante tutto ci assalivano, ci trattavano male Lanciano le bottiglie di vetro? Sì, è successo anche a me, un ragazzo che faceva i versi in Guido Monaco faceva il simpatico per far vedere che era bravo perché passava quando passava la Corriera è andata bene che non l'ho preso però mi è fuggito ieri e mi ha dato una botta sul vetro laterale che i vetri laterali delle Corriere non sono infrangibili o blindati e ha spaccato il vetro e ha scappato e non c'è stato verso di prenderlo Adesso i sindacati, GGL Cisle Will, dicono basta e chiedono di essere ascoltati dalle istituzioni e dall'azienda Autolinea Toscane Abbiamo scritto già alla prefettura, non abbiamo avuto una risposta concreta come vogliamo perché questo è un susseguirsi di aggressioni che comunque si aveva bloccato Noi chiediamo anche che l'azienda comunque sia a faccia del suo abbiamo bisogno di verifiche per tutelare sia non solo i conducenti ma anche gli utenti che pagano Noi chiediamo anche sotto quello che è l'aspetto regionale una cabina di regia anche a livello provinciale ovvero con tutte le istituzioni e quindi parlo di forze politiche, forze d'ordine, aziende, sindacati, rappresentanti, lavoratori per monitorare costantemente a livello temporale questo fenomeno Perché una persona che monta in Corriere, che è malintenzionato, fa finta di essere tranquillo e poi dà una coltellata o un labrone o un cazzotto nel viso all'autista quella Corriere si è ferma è un conto ma se è in viaggio che va dentro un fosso, dentro un burrone cosa succede?